Nuovo incidente stradale mortale sulla statale 129 Nuoro-Macomere al km 63 all'altezza del Bivio per Bottida. In uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio ha perso la vita Gianfranca Dejana di 24 anni, originaria di Dorgali. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polstrada di Nuoro che hanno eseguito i rilievi di legge. Le due auto coinvolte, la Citroen C3 su cui viaggiava la vittima e una Lanciamusa con a bordo due persone rimaste ferite ricoverate nell'ospedale San Francesco di Nuoro, procedevano in direzioni opposte quando all'altezza di una curva si sono scontrate. La Citroen è stata centrata in pieno, ad avere l'appeggio Gianfranca Dejana. Scattato l'allarme sul posto sono giunte le ambulanze del 118 i cui sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, ma per la ragazza purtroppo non c'è stato niente da fare. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno estratto i feriti dalle auto e messo in sicurezza la strada. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare le condizioni di sicurezza, ma anche la rimozione dei veicoli coinvolti. Il flusso veicolare è stato regolato dai carabinieri alla polstrada e in serata è tornato alla normalità. La statale 129 Nuoro Mancomersi conferma una strada pericolosissima, in cui in questi anni sono registrati numerosi incidenti mortali o che hanno determinato vittime e feriti. Servono interventi che la rendono sicura anche in considerazione dell'alto volume di traffico che si registra specialmente in determinate ore della giornata. Una strada pericolosa anche in condizioni di bel tempo come è avvenuto oggi.